E' una donna vicino eh Ecco, questo è pure latte puro No, sono un po' geloso Però, vabbè Siamo qui, bravo free e vi il latte a 80 Quindi voi va a mettere le tasche più piene Noi abbiamo più soddisfazioni Che ne dite? Ma adesso non farebbe più male Solitamente non pagano 70, 75 Dipende da che stronzetto vai Se siete interessati Lascio il mio numero Assolutamente Quando avete finito, non so Mi chiamate voi, oppure vi do un ciclo Oppure vengo io Ok, mi dai un numero così I signori, gli altri due signori? Io, sì, un attimo che mi sanno il numero Ok Se si guadagna di più, sono più felice, no? Beh, ovvio Mi sembra più che normale, signori E soprattutto Vi vincete un che cazzo bello di Santiago La consegna, vale 10 bit Quello lì, eh, mi raccomando Allora, ci vedete Sì, vada, vada Aspetta che mi Mi è caduta la corda vocale in Oh, mannaggio Allora 5, 5, 5 Sì Eh, 25 No, eh, 20.005 5, 5, 5, 20.005 Ok Lì si chiama? Santiago, orina Ovviamente appena appena finito Mi fate uno squillo Mi date un civico dove venire Oppure se non sapete dove Venite direttamente da me Mi darò un civico C'è una quantità minima? No Ciao Dio Io ne porti E meglio è per te Ti mando, ti mando un messaggio Così Non è che chiami per un litro di latte Voglio dire No, ovviamente Chi è che ti porta un litro di latte, signori? Sono bravi Mi dice che il numero è sbagliato 5, 5, 5 20, 0, 5 20 No, aspetta 0, 5 20 0, 0, 5 4, 0, signori Ah, ecco perché Beh, hai fatto una squillo o qualcosa Come vi ho detto Avevo mettere le tasche più piene Noi abbiamo più soddisfazioni Giusto? Giusto Ma ovviamente se avete anche qualche altro amico Che gli piacerebbe guadagnare Gli date il numero Oppure ci incontriamo direttamente qua al latte Mi chiamate Io ci sei? Ti chiami Eddie? Sì Oh, finalmente Ok Ti salvo il numero Allora ti mando un guasto tattico Grazie mille Quello ragazzo con il cappellino lì invece Eh, bravo, io me lo so segnato Poi gli mando un massaggio Va bene Ok, signori Grazie Appena avete venito Chiamatemi E ci vediamo Ok, grazie Buonasera, buon lavoro Grazie, grazie Ma questi sono quelli del Milky SRL Non capisco un cazzo Grazie 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 Grazie